Inizia a lavorare come modella a Milano. Prima di divenire protagonista della campagna mondiale di Guess, ha presentato il Festival di Sanremo 2005 assieme a Paolo Bonolis e Antonella Clerici. Venendo scelta dalla stessa moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli, pochi mesi dopo ha inciso il singolo J.E. Time, che fu scelta dalla Citroen come colonna sonora dello spot della Citroen C1 ed entrò nelle classifiche d'Italia, Francia e Belgio. Ha anche all'attivo un duetto con il rapper Vaca intitolato Non fidarti.